Sai come si chiama questo dipinto e chi l'ha dipinto? Il dipinto si chiama La donna con la brocca d'acqua ed è un olio su tela, 45,7x40,6cm, di Jean Vermeer, databile intorno all'1664-1665 e conservato al Metropolitan Museum of Art di New York. Il dipinto è noto con certezza solo dal 1877, quando passò all'asta da Christie S. a Londra. A quel tempo fu attribuito a Gabriel Mezzu e poi anche a Pieter de Hoche. Passò per varie collezioni in Irlanda e Francia, prima di arrivare a New York, nella collezione di Henry G. Marquand, che la donò al museo nel 1889. Nonostante le oscillazioni delle attribuzioni, nel 1878 era già stata esposta al Royal Academy di Londra con attribuzione a Vermeer.